Bene amici, come di consueto ogni semestre confrontone tra tutti i top di gamma e allora prendo gli appunti, ho qua sotto mano che cosa? Il Note 9 in pronta di sblocco posteriore, lo accendo, uno dei più grandi dell'otto ma anche uno di quelli che ha più senso, non a caso è primo nella mia pressione classifica perché io adoro la penna e poi quest'anno con l'implementazione del bluetooth scatto a distanza diventa ancora più utile. E poi non poteva mancare iPhone XS Max perché sostanzialmente ho tutte le versioni Max sia di iPhone sia per esempio di Pixel che c'è anche piccolino sostanzialmente per un discorso batteria Non una gran rivoluzione rispetto al X per quanto riguarda il design ma questo nuovo processore e poi una serie di ottimizzazioni a parte il colore che mi piace tantissimo fa sì che lo preferisca decisamente rispetto al X e poi il Pixel, uno dei miei telefoni preferiti ho fatto proprio lo squeeze gli manca, ok, il, diciamo, c'è l'assessore ancora dietro non ha l'assessore sotto lo schermo ha questa tacca che è veramente grande, importante però da utilizzare è uno dei telefoni più piacevoli è anche difficile cercare di spiegarvi il perché il feed della vibrazione, l'integrazione hardware e software insomma, mi piace molto e poi dietro un vetro satinato veramente sexy mi squida il citofono RSD-A, un altro pacco, vabbè poi Mate 20 Pro che quest'anno ha fatto veramente un gran bel lavoro sensore sotto al display, sblocco col volto tridimensionale veloce veramente specifiche al top per questo telefono che è anche molto stretto, comodo da tenere in mano ricarica wireless, può cedere energia tacca grande, sì, però tre camere tutte molto utili e poi, e poi uno dei miei best buy il OnePlus 6T che guadagna, avete visto il sensore impronta sotto al display guadagna forse la tacca più bella dell'otto insieme a quella del Mate 20 normale non proprio perché è molto simile, molto piccolina però poi ci sono, vediamo, vedremo altri telefoni senza tacca non uno stravolgimento ma un miglioramento con questo piccolo innalzamento del prezzo che mi ha dato un pochino fastidio e poi qua, ve lo apro, tac no, ovviamente non si sblocca perché devo guardarlo io per farlo sbloccare Mi Mix 3, non ho ancora fatto la recensione completa perché non è ancora uscita la versione global io ho la versione China ma devo dire che mi sta piacendo tanto perché è più stabile degli altri Xiaomi perché la camera fa foto meglio poi perché questo è diventato praticamente un antistress perché, devo dire la verità, non la si usa per sbloccare alla fine per sbloccarlo nel 90% dei casi uso il sensore dietro però quando sono nervoso inizio ad aprirlo e chiuderlo è comunque molto borderless e poi abbiamo il Sony XZ3 l'ho definito il telefono con, vedete? no, non con il sensore nel posto sbagliato ma con il display migliore ma il sensore effettivamente nel posto sbagliato probabilmente è anche un problema mio che avendo tanti telefoni e passando spesso da un telefono all'altro non mi abituo a dover tenere un pochino il dito piegato per sbloccarlo ma molto bello il design quest'anno senza tacca, simmetrico un bellissimo display come dicevo prima ricarica wireless insomma specifiche interessanti anche per lui e poi, beh, e poi Oppo Find X mi faccio sbloccare è sempre affidabile il sistema di sblocco uno dei più belli a parte che ho il Lamborghini Edition che è ancora più bello ma mi dicevano che nonostante sia un telefono che costa tanto comunque anche questo Lamborghini ne venducchiano abbastanza nei media war anche se la distribuzione è un po' particolare per esempio si fa fatica a trovarlo online software però va bene, parliamo dopo lo metto giù e poi uno degli ultimi arrivati è questo ragazzi è un telefono fulmineo riconoscimento con il volto mentre l'impronta è dietro ma soprattutto uno dei telefoni più veloci che io abbia mai provato è il ROG Phone audio stereo processore overclockato dietro il leddone quando arriva la notifica lo potete anche quando giocate tenere acceso perché l'ho voluto mettere in questa sfida perché è veramente un telefono molto molto veloce da tenere in considerazione e poi un telefono particolare mezzo sedicesimo con il sensore sotto al display uno dei telefoni cosa è successo? perché non mi fa più vedere il sensore? no, perché mi aveva sbloccato con il volto banalmente perché ovviamente c'è anche lo sblocco con il volto il più piccolo dell'otto il più leggero devo dire la verità forse da maneggiare è quello che preferisco di più molto bello guardate con questo design completamente a specchio però anche qua abbiamo un software che non convince particolarmente allora prendo i miei appunti perché se no non mi ricorderei niente non impermeabili OnePlus 8T Mi Mix 3 Oppo Find X ROG Phone e Meizu il più compatto ve l'ho detto il Meizu ma devo dire che quest'anno anche anche Huawei ha fatto un bel lavoro col suo Mate 20 Pro perché si tiene bene in mano proprio perché è molto stretto è uno dei pochi che è largo in poco più di 70 mm e poi Sony bello ma veramente scivolosissimo lui vince il premio Saponetta 2018 e poi due menzioni per il Pixel e per il ROG Phone che hanno lo Squeeze per attivare il Pixel si può attivare solamente l'assistente Google mentre per quanto riguarda il ROG Phone si possono attivare anche altre funzionalità compresa l'assistente Google ed è una gesture che mi piace veramente veramente tanto parliamo di display e partiamo con la luminosità 780 1049 730 870 920 940 1360 addirittura il Sony 818 990 e 943 Lux perché sono importanti i Lux? perché siamo davanti a tutti i display AMOLED che sotto luce e sole non fanno come gli LCD che alcuni pur avendo una bassa luminosità si vedono bene perché sono un po' riflettenti qua la luminosità è quello che conta vi faccio vedere anche la taratura del bianco sono comunque dei display che mi piacciono tutti veramente tanto e sto cercando la palette colori ed eccola qua la palette colori così potete vedere anche la gestione della tacca e vi faccio passare anche gli occhiali per farvi vedere che sostanzialmente tutti questi telefoni con questi display hanno la polarizzazione corretta e quindi e quindi la mia personalissima classifica sui display primo Sony Xperia ha veramente un display fantastico secondo iPhone ha un true tone veramente regolato bene e terzo il Note 9 sì lato Samsung avevo preferito il Note 8 più luminoso e anche S9 Plus e in realtà il peggioro tra questi display non c'è perché tutti AMOLED tutti si vedono bene e comunque tutti hanno dei bei colori ecco se devo fare una considerazione così occhio umano non c'è tutta questa differenza tra quelli che sono solo full HD e quelli che invece superano questa definizione e ora ve li ho girati tutti per parlarvi di autonomia tra l'altro ragazzi questa non è una recensione non vi darò troppe specifiche ma proprio più sensazioni di differenza tra questi telefoni per le recensioni ci sono tutte sul blog partiamo dal Note 9 si ricarica wireless 4000 mAh a sera con il 15% di autonomia residua qua si wireless 3174 25% di autonomia residua a sera qua si ricarica wireless 3430 10% a sera si ricarica wireless 4200 mAh 30% a sera con una ricarica velocissima e anche possibilità di donare in modalità wireless tra l'altro ricarica velocissima ce l'ha anche l'oppo ma ci arriviamo poi OnePlus che no non ha la ricarica wireless 3700 mAh 30% a sera e poi Mi Mix 3 si ricarica wireless 3200 e l'autonomia non lo so non mi sembra il suo punto forte secondo me si fa la giornata poi ve lo dirò nella recensione perché non l'ho ancora fatta e Sony si ricarica wireless 3330 mAh 5% a sera no l'oppo non ce l'ha 3400 mAh sono due batterie per quello che la ricarica è molto veloce a sera con il 10% e poi il Rogfon 4000 mAh 20% a sera non ha la ricarica wireless come non ha la ricarica wireless il Meizu che ha la batteria più piccola in 3.010 mAh e arriva a sera con un 10% di autonomia residua ma adesso parliamo di prestazioni sono tutti top di gamma quindi mi aspetto delle prestazioni al top da tutti li mettiamo tutti sulla pagina di Real Racing parto da qua voi tenete conto di quanto ci metto dal primo all'ultimo e tenete conto di quando partono pronti? vai 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 e qua c'era anche il game mode sull'onplus IT c'è anche su altri telefoni ovviamente sul Rogfon e anche sul Samsung vedete non tutti sono arrivati allo stesso momento mezzo uno dei più veloci ma anche il Rogfon molto veloce insomma ci sono delle piccole differenze ma tutti questi telefoni sono top di gamma e quindi vanno molto molto bene ma ci sono delle differenze che adesso vi faccio vedere nell'interfaccia prima di tutto usciamo da questo grandissimo casino vediamo se ce la faccio chiudiamo Real Racing da tutte le parti vabbè qua taglio se no diventa un video di due ore e mezza ma da un delirio all'altro parliamo di speed test inizio con il Note 9 uno alla volta per capire come gestiscono il wifi ovviamente sono tutti i telefoni dual band sono tutti i top anche per quanto riguarda il SOC gigabit quindi tutti vedrete che reagiscono molto bene e vediamo come va ok speed test finito e come vedete i telefoni sono più o meno sono più o meno lì vi faccio anche il trittico nel frattempo vi faccio vedere le gesture dei vari telefoni che non sono tutti uguali c'è chi ha i tasti a schermo c'è chi usa le gesture non mi fa impazzire per esempio la gesture del che ho appena fatto qua sull'Asus molto belle le gesture del del Meizu ma per farvi vedere un attimino al volo la velocità vi faccio il solito trittico su Instagram e facciamo Twitter perché Facebook non reagisce a tutti questi diciamo log in contemporanei iPhone è sempre molto veloce è fluido ma quando si va a chiudere le applicazioni in background come Twitter no avete visto si è aperto subito ma per esempio Instagram è un pochino più lento degli altri ad aprire l'applicazione poi devo dire che nell'utilizzo è veramente veloce non lagga appunto rispetto all'X mi è piaciuto molto di più ma c'è questa cosa da segnalare cioè l'apertura dell'applicazione non è velocissima questo è il Pixel che è molto veloce anche a tornare alla home page ecco per quanto riguarda il Mate qualche lagghettino quando proprio si torna alla home page proprio la fluidità dell'animazione l'ho notato anche nel Mate 20 poi non ha problemi di velocità perché il Kirin è veramente un gran processore ma proprio nel tornare alla home avete visto anche adesso un filo di lagghettino Oneplus beh fa della fluidità uno dei suoi cavalli di battaglia anche le gesture di Oneplus mi piacciono sempre veramente tanto e poi parliamo del Mi Mix 3 che rispetto agli altri Xiaomi ragazzi va veramente molto molto bene in tutti i contesti devo dire che non mi ha mai non mi ha mai deluso da un punto di vista della velocità il Sony anche lui devo dire che si comporta bene andiamo prima su Instagram e poi andiamo indietro sull'apertura di Twitter dove siamo qua siamo all'Oppo Find X anche lui veloce velocissimo anche la velocità delle animazioni non lagga ci sta mettendo un pochino da aprire Twitter ma ok anche lui l'ha aperto ormai diciamocelo ragazzi top di gamma ma anche i telefoni intorno ai 300-400 euro vanno su queste diciamo prove che sono dell'utilizzo quotidiano che poi facciamo un po' tutti nella nostra vita vanno tutti più o meno bene ecco il vantaggio di avere un top di gamma è che con magari applicazioni più pesanti o magari a volte capita dopo 3-4 anni di avere un medio di gamma inchiodato invece i top di gamma tendenzialmente per 2-3-4 anni vanno ancora vanno ancora bene il problema di avere telefoni con tutta questa anzianità è un po' la batteria e sappiamo che più o meno tutti i telefoni dopo un paio d'anni massimo hanno la batteria che inizia a perdere colpi ecco perché comunque l'autonomia residua che vi ho detto prima di questi telefoni può avere senso anche in ottica futura quando le batterie iniziano a degradarsi ci sono quelli che adesso arrivano a sera con un pochino più di autonomia che magari vi faranno comunque la giornata anche tra 3 anni e ragazzi se avete comprato un top di gamma magari 2-3 anni fa e la batteria inizia a fare un po' così beh non state a buttare via il telefono magari cambiate la batteria perché può avere ancora un senso riassunto del prova di hard delle prestazioni primo ROG Phone e OnePlus 6T sono i più fluidi più veloci più reattivi secondo posto per iPhone e il Meizu adesso io stavo parlando della batteria ma ragazzi il Meizu è veramente uno dei telefoni più veloci nell'otto iPhone però diciamo fluidità in generale e piacevolezza d'uso generale non proprio reattività nell'aprire le applicazioni non c'è un vero ultimo come dicevo prima sono tutti top di gamma vanno tutti molto bene e veloci forse Samsung e Huawei sono quelli che hanno qualche lagghettino in più rispetto agli altri però ripeto veramente sono finini le differenze ma vi ho messo la schermata e le impostazioni non a caso perché voglio parlarvi di software allora visto che è una cantinetta alle mie spalle si molti non ci sono perché sono qua ho ormai un po' di esperienza di background su chi aggiorna chi non aggiorna allora partiamo subito e vi dico aggiorna spesso Samsung del Samsung mi piace molto l'ecosistema per esempio adesso siamo alla versione 9.5 da Samsung Experience 8.1 di Android e con un aggiornamento delle patch al primo ottobre 2018 cosa mi piace di Samsung del Note vabbè oltre alla penna anche l'ecosistema e la completezza c'è il Samsung Pay che si può utilizzare anche non in post contactless ma grazie alla tecnologia anche nei vecchi post quelli che accettano solamente la strisciata della carta e poi si va a integrare Health si vanno a integrare le soluzioni domotiche e di diciamo per esempio il condizionatore televisore di casa Samsung quindi un suo ecosistema lo ha anche dal punto di vista applicazioni e storage per quanto riguarda iPhone beh aggiorna spesso si aggiorna spessissimo iPhone è il re dell'ecosistema vi chiude un pochino dentro ma dentro ci sta veramente molto bene e tendenzialmente anche le applicazioni sono fatte un filo meglio che per il mondo Android questa differenza si sta assottigliando sempre di più e è ancora un valore giunto di Apple ma deve stare attenta perché comunque anche le applicazioni per Android stanno crescendo c'è da dire che le applicazioni professionali per esempio per guidare il drone lo dico sempre ma faccio questo esempio perché lo uso quotidianamente per magari comandare il gimbal per andare a fare dell'elaborazione hard sulle immagini anche banalmente la stessa Instagram beh su iPhone girano meglio c'è poco da dire la pecca è la poca personalizzazione per quanto riguarda Pixel 3 aggiornato spesso si guardate patch a settembre Android in versione nuove però strano patch di settembre in realtà siamo a novembre e no mi ricredo ma come mai il pixel è aggiornato solamente a settembre che mi sia perso qualche aggiornamento mi sembrava mi sembrava strano che le patch non fossero aggiornate lo riavvio perché l'aggiornamento l'aggiornamento c'è che quando faccio questi confronti li controllo cento volte prima ma c'è sempre qualcosa che mi sfugge ma il vantaggio del pixel è avere questo hardware e software ben integrati l'intelligenza di Google il machine learning si sembrano tanti bla 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 tanti paroloni ma poi quando lo vai a usare ha un feedback attico fantastico come iPhone e anche come Meizu lo squeeze va bene gira bene è vero l'attacca è brutta però ragazzi è proprio piacevole da utilizzare il pixel 3 e vi sfido a trovare una recensione che dica il contrario ma non perché Google paghi Google non paga assolutamente come non paga nessun altro ma vi assicuro che è proprio così poi Huawei 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 aggiorna mediamente magari un pochino meno rispetto agli altri agli altri brand qua comunque siamo a ottobre del 2018 per quanto riguarda le pezzi di sicurezza avete visto adesso anche un piccolo lag nel chiudere le impostazioni ha mille funzioni le motion le motion UI molto belle le gesture secondo me le gesture top perché prevedono anche l'avvio di di Google facendo uno swipe dall'alto laterale o anche rimpicciolire l'immagine facendo così vedete utilizzo a una mano anche Huawei ha un servizio cloud anche Huawei ha health insomma prova a scimmiotare sia iPhone ma anche Samsung però i servizi mi sembrano sempre leggermente leggermente indietro anche se devo dire che questo Mate 20 mi è piaciuto veramente comunque tantissimo e poi OnePlus aggiorna spesso OnePlus mi piace la velocità mi piacciono le gesture l'interfaccia è comunque decisamente piacevole tra l'altro anche qua c'è un aggiornamento software ma come ho fatto l'aggiornamento proprio prima del ce n'è un altro vabbè riavviamo anche lui anche lui i patch sempre abbastanza aggiornate insomma OnePlus da questo punto di vista funziona funziona veramente bene e l'unica cosa che non ha un suo ecosistema vabbè chi se ne frega se utilizzano le applicazioni si riesce a fare comunque tutto tranquillamente vi parlo di del Mi Mix Allora qua sul discorso aggiornamenti c'è da fare un distinguo Mi Mix grazie anche alla community aggiorna molto spesso le versioni beta della sua della sua MIUI per esempio questo è appena uscito quindi avrà le ultime patch si ce le ha di settembre ma per quanto riguarda le versioni stabili non sempre arrivano velocemente e soprattutto quando escono telefoni non sempre si aggiornano tutti per esempio mi è arrivato il Mi 8 Pro l'altro giorno ancora la MIUI 9 tanto per farvi un esempio arriverà il 10 da dire che gli Xiaomi sono tra i telefoni che diciamo migliorano di più con il tempo mi piace graficamente la la MIUI 10 decisamente mi piacciono anche le gesture che ha che ha Xiaomi cosa mi piace oltre a questo le tante funzioni invece quello che non mi fa impazzire è la poca stabilità generale ma in realtà questo Mi Mix 3 funziona Android Auto il Bluetooth l'ho trovato stabile e per ora grossi bug non ne ho non ne ho rilevati per quanto riguarda il Sony si si aggiorna spesso spessissimo grazie alla cantinetta abbiamo scoperto che Sony forse è uno dei produttori che è giorno prima anche alla versione di Android Android versione 9 vedete ottobre del 2018 le patch velocissimo forse interfaccia un po' old non a tutti non a tutti fa impazzire a me sinceramente non dispiace mi piacciono le applicazioni dedicate qua alla multimedialità si integra bene con il mondo Sony non ha ancora le le gesture ma non piace a tutti vi parlo di Oppo allora Oppo perché ho fatto perché questo telefono è veramente bello 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 ma sul software ancora purtroppo non ci siamo per quello che non è tra i miei preferiti per esempio notifiche ancora non le vediamo vedete io ne ho tante ma là sopra non vediamo niente per quanto riguarda dei giornamenti non me ne è arrivato ancora nessuno siamo ancora con la versione di ColorOS 5.1 con le patch ad agosto non ci sono le gesture sulla versione europea per questione di diritti non ho ancora capito perché insomma è un gran bel telefono ma il software non mi fa ancora impazzire mentre per quanto riguarda Asus aggiornamenti mi è appena arrivato il 5Z a tenere in cantinetta devo dire medio come livello di aggiornamenti la versione Android 8.1 con le patch di settembre 2018 le gesture non mi piacciono perché bisogna fare swipe up nei punti giusti qua per la home qua per il multitasking e qua per il back quindi non possiamo andare a schermo libero però devo dire che Asus è migliorato tanto nelle opzioni ce ne sono tante molto personalizzabili soprattutto per quanto riguarda le preferenze della home page e rispetto a una volta che metteva mille programmi inutili bloatware si è da questo punto di vista dato una ridimensionata è un software che non non mi dispiace e poi il Meizu potrei fare un po' un parallelismo con l'op un telefono che mi è piaciuto tanto feedback bello haptico però aggiornamenti quasi mai pervenuti questo rimarrà in cartinetta per vedere se almeno su questo sedicesimo arriveranno ma anche qua siamo ancora alle patch di agosto fly me vecchia bellissime le gesture di Meizu Meizu praticamente ha inventato le gesture con i vecchi telefoni ancora col tastone ma avevano le gesture davanti di fianco e anche nel tastone software molto iphone style per esempio una cosa che a me dà veramente fastidio del Meizu è che non ha lo sblocco sì col volto sì con l'impronta ma se lo voglio sbloccare io così per i fatti miei devo per forza mettere il codice perché non ha neanche lo sblocco con il segno tipico di iphone che non ha il blocco con il segno lo sblocco con il segno e allora Meizu ha un po' scopiazzato ok li ho girati tutti per parlarvi di fotocamera non starò a darvi le specifiche tra l'altro link qua all'articolo che va a comparare nell'analitico le fotografie fatte da questi telefoni io sarò molto veloce pro e contro di tutti note 9 ottime foto in ogni condizione molto nitide ottime al buio anche in automatico contro zoom 8x non al top e bokeh mangia qualche capello poi vi parlo dell'iphone equilibratissimo colori molto fedeli bokeh più veritero perché è un po' graduale contro niente modalità notte e niente modalità manuale e poi il pixel qua lo dico qua lo nego no lo confermo il migliore se andiamo a mediare tutte le fotografie un modalità notte veramente pazzesca il bokeh netto ma preciso contro filtro bellezza nei bokeh e poi mate 20 pro foto top sempre miglior zoom modalità notte molto buona contro il bokeh con la tele non va benissimo con la wide va bene ma non è un vero modalità ritratto perché si va a essere un pochino più lontani però mi piace il fatto che ci siano tre camere tutte e tre molto utili e poi lo zoom 3x è veramente top one plus buon dettaglio modalità notte ok ogni tanto svalvola e fa quello che vuole però basta rifare la foto e poi viene bene contro selfie con colori un pochino smorti e poi mi mix 3 pro foto nitide modalità notte ottima non come il pixel ma comunque molto bene contro foto un po' troppo satura e l'intelligenza artificiale non aiuta particolarmente anche sul sul mate secondo me le satura troppo l'intelligenza l'intelligenza artificiale e poi vi parlo del sony eccolo qua pro ottimo dettaglio delle macro ok con buona luce bokeh pessimo e molto rumoroso al buio anche perché il bokeh scatta due foto ma una dopo l'altra ci mette tante quindi è veramente difficile proprio scattarlo il bokeh poi oppo pro buon dettaglio di giorno poco rumore con poca luce contro colori non fedelissimi un po' di alone al buio bilancia male i colori tende un pochino al verde rogfon vi dico subito il peggiore dell'otto pro lente grande angolare poco definita i bordi contro bokeh senza una 2x e rumore eccessivo al buio e l'ultimo il meizu che ha un buon dettaglio soprattutto con tanta luce colori della pelle un po' smorti e un po' di rumore al buio insomma il huawei e il rogfon sono gli unici due con il grand'angolo e già solo questo potrebbe essere un fattore un fattore di scelta poi vi dico che i colori più equilibrati ce li ha l'iphone gli scatti migliori in assoluto secondo me facendo una media li ha il pixel 3 il più versatile che fa comunque ottimi scatti il mate 20 pro e il peggiore vi ho detto rogfon uno dei miei test preferiti questo è il note ovviamente stereo iphone stereo volume più alto pixel 3 stereo volume simile ad iphone e soprattutto speaker frontali mate 20 torno indietro che ha un volume leggermente più basso degli altri l'audio sotto esce dalla tipo C quindi quando ce l'abbiamo collegato alla corrente l'audio è ancora più basso però suona bene one plus uno dei pochi mono però la casa sotto pompa veramente tanto anche i bassi sentite e poi vai mi mix mono anche lui pochino meno di one plus sony un pochino chiuso un pochino medioso però volume buono e anche lui speaker stereo frontali la cosa che non mi piace del sony è la vibrazione quel feed che dovrebbe darci anche nei giochi una marcia in più non mi piace assolutamente e poi vai con l'oppo oppo mono ma volume decisamente buono stereo frontale e volume altissimo con degli alti molto belli molto senti proprio il piatto della batteria mi piace però i bassi non ce ne sono tantissimi ma buono il volume e finiamo con il Meizu che è mono se non sbaglio no è stereo il Meizu attenzione ragazzi è stereo e suona anche lui molto bene per quanto riguarda la qualità della chiamata sono tutti telefoni che non mi hanno dato assolutamente problemi vi mando alle recensioni singole per ricezione come mi sentono eccetera eccetera ma ripeto nessun problema da un punto di vista telefonico mentre mi sono segnato qua una cosa DAC migliore iPhone Note 9 e Sony anche se le differenze sono abbastanza piccole e per il prezzo APROS tutti i telefoni pago meno così da fare un ragionamento su anche la valutazione economica che è importantissima in fase di scelta cerchiamo i vari telefoni sui vari portali allora Note 9 diciamo che si trova attorno ai 750 euro ha già subito un pochino di svalutazione i iPhone XS Max intorno ai 1300 vado a prendere diciamo forse Amazon Marketplace che è una via di mezzo tra economicità e livello di affidabilità del negozio per quanto riguarda il Pixel 3 XL ragazzi non si trova online si trova praticamente solo sullo store di Google vedete anche qua neanche neanche pago meno lo trova 1099 euro per la versione da 128 gigabyte che non essendo espandibile secondo me è l'unica che ha un senso per quanto riguarda il Mate vediamo un po' Marketplace 860 euro anche qua inizia a svalutarsi vi ricordo 1099 di listino versione 128 e invece il OnePlus anche qua praticamente si trova solo online il CT sul sito di OnePlus su Amazon oppure da Mediawar ma difficilmente altri siti lo tengono o comunque non hanno prezzi più bassi il 128 589 euro proprio da Mediawar che tra l'altro è il prezzo ufficiale forse da qualche parte 650-660 ma non si risparmia tantissimo ed è anche per questo che mantiene molto il valore sull'usato Mi Mix 3 anche qua non si trova ancora ma 690 euro dovrebbe uscire in Italia si vocifera a dicembre store cinese intorno ai 570 euro 550 su grossi shop che hanno mandato proprio 570 mentre Sony 799 euro di listino non si 799 non 7,99 store minimo 754 quindi anche lui non si è ancora svalutato tanto Oppo Find X quello che vi dicevo prima si fa fatica a trovare online si fa fatica a trovare a meno e se vado a cercarlo su Pago Meno non si trova neanche 1000 euro bisogna spendere non dico per Lamborghini che bisogna spendere addirittura 1600 ma direi di comparare quello standard 1000 euro ROG Phone eccolo qua questo si si trova 899 di listino ma 775 no usato no no dimentichiamoci l'usato no 899 anche lui non è sceso di prezzo anche lui si fa fatica a trovare online su Amazon si trova praticamente solo sul sito Asus e da poche altre parti mentre per quanto riguarda il Meizu sedicesimo anche lui si fa fatica no si trova guardatelo qua 128 giga Amazon marketplace 544 euro e 90 quindi è il più economico del dell'otto quale preferisco c'è la mia classifica in alto a destra del blog si a me il Note 9 piace tantissimo proprio per un discorso di penna non è il migliore non è più veloce ma questa cosina qua gialla tra l'altro con la versione blu del telefono mi piace tantissimo e trovo che per un utilizzo professionale dia veramente un boost e continuo a dirlo ma continuo a non capire come mai nessun altro produttore la implementi forse perché il mercato è un po' di nicchia quello delle penne non siamo in tantissimi ad usarla in maniera produttiva ma forse anche perché solamente Samsung la implementa comunque se avete un budget illimitato io continuo ad amare iPhone questo XS è veramente veloce il max un pochino grande ma fa un po' dell'autonomia al suo cavallo di battaglia per il fatto che la batteria dura dura parecchio e ripeto è secondo in classifica proprio perché non ha la penna ma a me l'ecosistema di Apple continua a piacere tanto proprio nell'utilizzo nelle applicazioni eccetera eccetera e poi metto diciamo a pari merito il Mate 20 Pro che è qua per la versatilità della camera soprattutto per le tante funzionalità mi piace anche la finitura e come sta in mano e mi piace tantissimo anche il OnePlus IT anche se la mia critica nella recensione è stata di OnePlus che alza sempre leggermente un prezzettino 10 euro oggi 50 euro domani 20 euro dopo domani però devo dire che questo 6T va come tutti gli altri OnePlus molto bene tra l'altro ormai abbiamo anche una sorta di storicità di OnePlus OnePlus vecchia il 3T il 5 vanno comunque ancora molto bene non sono telefoni che si imballano dopo qualche tempo insomma questo è il feedback che ho io dagli utenti che poi mi scrivono e quindi è un diciamo un feedback decisamente decisamente buono per l'equilibrio generale perché dico il OnePlus non eccelle niente non è quello che fa le foto migliori non è quello che ha la batteria che dura più di tutti non è quello che ha il display più bello di tutti ma è quello che se facciamo una media delle caratteristiche rispetto al prezzo forse è quello che il rapporto qualità prezzo è il migliore insieme secondo me anche al 20 pro che costa sì tanto ma comunque è veramente tanto completo Mi Mix 3 eccolo qua è il primo Xiaomi di fascia alta no l'ho preso e buon notte Mi Mix 3 è qua ma davanti si assomigliano veramente un po' tutti è il primo Xiaomi di fascia alta che mi convince per una sorta di stabilità generale di utilizzo e di fotocamera è quello che fa sicuramente in casa Xiaomi le foto migliori aspettiamo che esca la versione europea e poi e poi ragazzi posso dire che a me questo Meizu 16 mi piace un sacco sarà il feedback aptico sarà che è piccolino sarà che è leggero sarà che è un bel design ma mannaggia al suo software mi fa veramente mi fa veramente girare scatole e per giocare è per giocare lui grazie anche agli accessori batte tutti anche perché tra poco mi arriverà lo Shark 2 e anche il Razer Phone che sto provando e quindi sarà una sfida a tre lato gaming insomma ma mi stavo dimenticando del Pixel 3 che è terzo nella mia personale classifica perché è un telefono molto piacevole in utilizzo tra l'altro con la fotocamera migliore dell'otto anche se ne ha solo una Night Mode veramente eccezionale e guardate sì tutti si fermano all'attacca per dire che è brutta è vero è brutta è vero è caro ma questa piacevolezza d'uso che trasmette faccio fatica anche a trasmetterla a voi più che dirvelo non so come è un telefono che va proprio toccato con mano e provato per qualche giorno comunque su tutto io spero di averviato delle dritte per scegliere il vostro telefono ho cercato di sviscerare pro e contro di ognuno ma con qualsiasi di questi telefoni comunque ci farete tutto e cadrete in piedi perché ormai le differenze sono veramente molto piccole e più di carattere personale sulla feature in più la feature in meno il sistema operativo e noi ci vediamo no domani con un altro video sì ma con l'altro confrontone dei top di gamma tra sei mesi chissà cosa uscirà ciao si parla di pieghevoli